Andiamo avanti con il premio rivelazione femminile. Va alla modella, showgirl e attrice Aida Jespica per il brano Bugatti. C'è questo ritornello che ti entra dentro. Buonasera, questa è la terza volta che sono qua a rincare. E' cosa mia, veramente per chi non conosce il mio nuovo singolo si chiama Bugatti, potete andare a vedere e ascoltare anche sulle piattaforme. Poco giorni fa, quattro giorni fa ho lanciato il video da Miami e sono super contenta, veramente anche oggi ho fatto iatri radio e sta andando benissimo veramente. Grazie anche a voi per avermi invitato questa sera e a ritirare questo premio. Per me è un onore. C'è quel ritornello che ti entra dopo un minuto praticamente. Bugatti, piloteando tu Bugatti. Sì, veramente, chi non ha ascoltato andate veramente a ascoltarlo. Allora, ti premierà l'organizzatore della manifestazione Fabrizio Pacifici. Grazie. Grazie. E' caduto il microfono. E' caduto tutto. Ho fatto bene, no? Grazie Aida.